Allora, Libio Evangelista. Ciao Davide. Angelica, Angeli e Marco Pepe. Buonasera ragazzi. E fare la maratona, quindi andare sulle orme di Filippide, partire da maratona e arrivare nel centro di Atene, allo stadio olimpico. Sì, ma una maratona comunque, cioè non può essere chissà come, no no? Invece, a un certo punto ho detto, qua è veramente tosta. Anche perché il dislivello non era come era scritto ed era, aveva 100 metri in più e quindi non me l'aspettavo. Foratamente la testa, manovra le gambe e quindi mi ha permesso di portarla a termine. Veramente con tanta fatica è stata un'impresa.